Ancora una fumata nera tra Londra e Bruxelles. Dopo il fallimento dell'incontro domenica tra il premier britannico David Cameron e il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, le trattative sulle condizioni per l'adesione della Gran Bretagna all'Unione Europea sono riprese a livello tecnico tra i funzionari questo lunedì. Al portavoce della Commissione europea a Bruxelles è rimasto solo l'amaro compito di temporeggiare. I negoziati non sono stati sufficienti per permettere agli avvocati delle istituzioni europee di chiudere un accordo. È un processo che va avanti a 28 e la Commissione lavora per tutti e 28 gli Stati europei. La tournée europea di David Cameron era già iniziata venerdì a Bruxelles dove il premier ha incontrato il presidente della Commissione europea. A Juncker il leader britannico ha ribadito le sue condizioni per restare dentro l'Unione Europea. In primo luogo poter dire no ad un'integrazione politica ancora più forte. Poi permettere al Parlamento britannico e agli altri parlamenti nazionali di poter bloccare la legislazione europea bocciando una direttiva che non convince. Poi c'è la clausola salva sterlina. La Gran Bretagna vuole che i paesi fuori della zona euro non siano svantaggiati e vuole poter non pagare per i piani di salvataggio dei paesi dell'euro. Ma il punto più controverso è il taglio ai sussidi sociali per i cittadini europei. I lavoratori stranieri dovranno aspettare quattro anni prima di poter chiedere i sussidi sociali in Gran Bretagna. Proposte controverse su cui Tusk cercherà un compromesso da presentare al prossimo vertice dei leader europei il 18 febbraio.